clara mcgregor va ad ammettere che purtroppo avrebbe subito degli abusi sessuali una notizia che sconvolge ovviamente il mondo intero questa della famosa figlia del grande ewan la quale appunto ammette pubblicamente di avere purtroppo subito degli abusi sessuali dei soprusi violenza fisica violenza sessuale non violenza verbale sono ovviamente stupito cari utenti di youtube nel darvi questa notizia che mi ha raggerato letteralmente il sangue nelle vene non mi sarei infatti mai e ripeto mai aspettato che una donna bella affascinante e sicura di sé come clara avesse avuto una violenza sessuale shock anche nel mondo del della carta stampata nell'aver appreso nell'aver saputo che la ragazza in questione la donna in questione purtroppo avrebbe avuto questo tipo di problema questo tipo di situazione qua che poc'anzi vi ho tratteggiato brevemente ringrazio tutti per l'ascolto ringrazio tutti per la visione di questo video di oggi un saluto dal vostro leandro avesse da bu su un'ora doridere avesse